Apparentemente sembrava una normalissima chat nata nel novembre 2019 per organizzare quello che sarebbe stato l'ultimo giorno dell'anno, nominata appunto Capodanno 2020. In realtà il gruppo, creato da ragazzini tutti minorenni residenti in Casentino, sia su Telegram che Whatsapp, era una vera e propria chat dell'orrore, dove giravano immagini pedopornografiche e video shock di stupri ed abusi sessuali anche su bambini. La scoperta è stata fatta dai carabinieri grazie al padre di un 14enne che aveva individuato all'interno dello smartphone del figlio il gruppo ed in sospettitosi ha aperto i contenuti. Dal profilo collegato all'utenza di uno dei partecipanti, un coetaneo della vallata, era partito all'indirizzo dell'intero gruppo un videopedo pornografico, un rapporto sessuale promiscuo tra bimbi verosimilmente girato in Sud America. Immediato così l'avvio delle indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bibbiena ed altrettanto immediata la perquisizione del minore nella casa dove vive assieme ai genitori. Qui gli sono stati sequestrati smartphone ed altri supporti informatici. I carabinieri hanno così individuato un secondo video, sempre pedopornografico, inoltrato nella chat assieme ad un altro conservato nella memoria del cellulare. Per il ragazzo è scattata la segnalazione alla procura presso il Tribunale dei minori di Firenze per detenzione e diffusione del materiale pedopornografico. Ma questa tristissima storia purtroppo non finisce qui. I successivi accertamenti hanno portato ad individuare anche altri giovani, tutti minorenni, di età compresa tra 15 e 16 anni, residenti nell'aretino, con ulteriori perquisizioni e sequestri di smartphone e dispositivi informatici, all'interno dei quali sono stati recuperati anche altri video, oltre che di carattere pornografico anche di natura oltremodo violenta. Le indagini dei carabinieri adesso proseguono.